La macchina bellica di Hitler ha scatenato il suo ferrovo la voce blitzkrieg sull'Europa occidentale, mettendola a dura prova. Nella nostra ora più buia dobbiamo trovare la forza per diventare il baluardo contro l'oppressione. L'invasione nazista sarà la nostra prova più dura, ma con i nostri alleati dobbiamo affrontarla e superarla. L'invasione nazista sarà la nostra forza per diventare la nostra forza per diventare la nostra forza per diventare la nostra forza. La nostra forza per diventare la nostra forza per diventare la nostra forza. La sua strada sarà lunga e alta. Le dimenti dimenticati di violenza della guerra. Nel momento di grande sacrificio, dovremmo prevale. «Paul, è il 6 giugno 1944. Dovresti vedere che roba, fratello. Dobbiamo invadere una spiaggia francese di cui non so neppure il nome. Tutto questo per liberare la Francia dai nazisti. L'attesa è stata sfiancante. Poi lui mi chiede l'orologio e io gli faccio «Che cazzo te ne fai del mio orologio? Sei il capitano della cazzo di squadra di football!» «Mi sono fatto buoni amici in addestramento, tutti imbarcati con me. Ce la facciamo sotto, ma nessuno lo dà a vedere. La prima settimana di addestramento odiavo, Ziusman, ma ora è il mio migliore amico. È un piantagrane. Se non ci fosse una guerra, sarebbe il primo a farnevo. In più, mi servono tutte le dita se voglio scattare la foto dell'anno. Stiles dice che una volta a casa diventerà un fotografo di Life. Mi ricorda Clark Kent, solo che quando toglie gli occhiali, l'unica cosa che succede è che non vede più un cazzo. Aiello è il veterano, il classico tipo che mamma avrebbe definito «zotticone». Oh, rendiamolo più interessante. San Michele, santo patrono dei soldati. È da Kasserin che mi salva il culo. Ziusman, tre volte in dieci secondi. È da tutto tuo. Non lo so. Oh, adesso te la fai sotto. Punto su Ziusman. Ok. Ci sto. Non posso guardare. Dai il tempo quando te lo dico. Dove ero rimasto? Io e i ragazzi ci eravamo infilati in una partita a poker della squadra di football. Avevamo un sistema per segnalarci le carte di ogni giocatore. Il quarterback ci è rimasto di merda quando ho vinto tutto. Pronto? Ecco che succede a imbrogliare un imbroglione. Ora. Ecco te sei stevato. Aiello aveva affrontato molte battaglie. Mamma diceva non fidarsi degli ebrei. Non mi ha detto così stanotte. Ed era bigotto come pochi. A che serve uno stupido ciongolo? A te è servito. Troverò di meglio. Un vero trofeo vedrai. Buona fortuna. Il briefing è alle 18. È tardi. Lascia fare a me Daniels. Puoi stare tranquillo. Il briefing sta per iniziare. Che cazzo state facendo? Poi c'è il sergente Pearson. Un vero simpaticone. Vi credete tanto speciali eh? I crocchi vi faranno il culo. No. Non a noi sergente. Può starne certo. Chiudi il becco Ziusman. Con me. Visto che ho una fortuna sfacciata, qualunque cosa accada, stammi vicino. Prima la Normandia, poi il Reno. Ce la faremo, Daniels. Oggi, con i nostri alleati, diamo inizio a un'operazione della massima importanza. Stiamo a spiegare una testa di ponte in Normandia e respingere la dilagante invasione tedesca che terrorizza l'Europa da quattro anni. Noi siamo l'unica cosa che separa il mondo dalla rovina. Questa non è solo un'occasione di diventare degli eroi per tutta la vita. Se vinciamo, il nostro trionfo resterà scolpito nei cuori e nelle menti di tutto il mondo per innumerevoli generazioni. Sto parlando di gloria, signori. Vera gloria. Il colonnello Davis ha fatto un bel discorso. Mi ha ricordato quello di Coach Johnson prima della nostra partita del ringraziamento contro Austin. Te la ricordo, è vero. Abbiamo perso con 42 punti di scarto. Il tenente Turner non perde mai di vista Pearson. Fa di tutto per contenerlo. Se non lo facesse Pearson, ci salterebbe alla gola. Sai che tu ci creda o no, Paul. Ho sempre voluto essere come te. Sarà difficile seguire le tue urme. Ma di certo ci proverò. Ora o mai più. Ehi. Magari avessi qualcuno ad attendermi. Aspetta di arrivare a Parigi. Ce n'è di strada. Ricordate, non fermatevi in spiaggia. Dovete avanzare. State bassi e ben distanziati. Fate come vi è stato insegnato e ve la caverete. Sarà un onore guidarvi in battaglia. Sempre e comunque. Ok, facciamogliela vedere. Hanno già bombardato le spiagge, vero? Hai paura, soldato? No, signore. Invece dovresti. Daniel, sei da accendere? Certo. Tutti giù! Occhio! 500 metri! Dobbiamo annullare tutto! No! La missione continua! Portaci dentro! Siamo fuori posizione! Non vedo i segnali! Hai sentito il tenente? Avanti tutta! Attaccano! Corgetemi! Porca puttana! 200 metri! 20 secondi! 20 secondi! Stesso piano! Andate alla barriera! Coperson, James! Vanga lava il filo spinato! Subito! Tutti pronti! Ci siamo! Giù la rampa! Qui siamo scoperti! È un ordine, cazzo! Giù la rampa! Copio! Honest! Giù la rampa! Di sedia! Di sedia! Ci siamo scoperte! hates buoni! Anima! Di sedia! Bustatemi fuori! Vieni giù la testa e avanza! Daniel, con me! Prendi il bungalow e vai alla barriera! Dobbiamo aprirci un barco fino ai bucchi! Daniel, sei addestrato per questo! Prendi quel siluro! Puoi farcela? Signor, sì! Oh merda! Presto, prima che ricarichi! Dai! Daniel, sei qua! Presto! Soltato Daniel, va alla barriera! Vai alla barriera! Ci vediamo là! Apre il barco nel filo finato! Daniel! Usa il siluro! Ti copriamo noi! Una volta passati puntiamo dritti ai bunker! Ci siamo quasi! Via! Via! Fuoco alle polveri! Forza! Di fronte! All'attacco! Forza! 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 Avanzare! Nell'attricea! Presto! All'attacco! Toi! whoo! Ha 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 ha.. Hai una brutta ferita, tieni! Usa questo! Grazie! Bene! Ci siamo! Eccoli a arrivare da E! Quelle misragliatrici ci impediscono di avanzare! Andiamo! Siamo in arrivo! Contatto! Contatto! Dobbiamo arrivare ai Moschel! E va! Segnano l'aria per sacco! Sì! Così mi piace! Tra gli atrici distrutte! Polverizzate! Saliamo lassù! Daniels! Usman! Qua su! Stiamo bassi! Non troppo vicini! Daniels! Avanzo insieme a Usman e neutralizzate quei bunker! Ora! Lasciamo attenzione! Aspetti! Sono dietro di te! Sono trincerati! Daniels! Butta una granata in quel bunker! Si stanno muovendo! Ha finito la granata! Ci sono! Grazie! E si è lo scopriamo! Si è lo scopriamo! Skip medico! Qua! Lo scopriamo! notizie Sono dietro di te! Sono trinzionati! Daniels, butta una granata in quel bunker! Granata! Senti il mio aiuto! Sì, bunker! Vendea! Lada da! Un kit medico, qua! L'ho steso! Registrira assinite! Americana! Ho un kit medico tutto per te! Mi serve un kit! Ecco a te! L'ho speso! Primo neutralizzato! Forza! Tutti fuori! Bunker libero! Le mitragliatrici sono ancora a problema! Vanno distrutte! Credi di farcela? Tutto bene, grazie! Dobbiamo arrivare ai bunker! Siamo foccati dalle mitragliatrici! Daniels, lancia un fumogeno! Daniels! Fumogeno, ora! C'è un'altra un'altra! Qualcuno lancia un fumogeno! Torretta, cercata! Avanti! Come on up! Come on up! Devo ricaricare! Capine, vizier! Uso una granata! Leggierci, un kit medico per te! Ok, ora! E' a terra! Bunker pulito, andiamo! Ne abbiamo eliminati tutti! Andiamo, dai! L'artiglieria colpisce la spiaggia! La prossima ondata non passerà! Quella artiglieria spara addosso alle nostre navi! Signor sì! Signor no! Signor no! Agnes! Anni e! Col kit medico! Vado! Come on! Come on! con Oh! La vicenda! Attacano! Spiagano! Stai los! Stai los! Devego! Devego! E' maldad! Stai los! Stai los! Stai los! Stai los! Sono davanti! Facciamo attenzione! Svelti! L'arena! Qualcuno mi aiuti! Stiamo uscendo! Eccoli! E' morto! Ci abbiamo fatto il corruzione! Stiamo tutti al passo! Muoversi! Muoversi! Provo con una granata! Ecco che arrivano! Non sparare! Si muovono da nord! Alla colonna! Un e una! Ricarico! E' morto! Arrivano da nord! Procediamo! Forza! A secco! Ricarico! Daniels! Tu e Zusman ripulite l'ultimo bunker! Raduniamoci in cima all'altura e cercate di non farvi ammazzare! Ok! Ok, Zusman! Ancora uno! Possiamo farcela! In movimento! E' morto! Non c'è un po' di turni! Sacchi di saggia! L'ha steso! Trucchi! Nemici in arrivo da sud-ovest! Preso! Oh! L'ho stessa! Versaglio a ollo di giro! Versaglio a ollo di giro! Non c'è un po' di giro! Anche in verso la giro! Un' одно! Avanziamo! Andiamo! Fasciamo! Cisana! Cielosman! A ore dodici! Vieni, amico! Non ce la faccio! Merda! Tirami fuori da qui! Ti tirerò fuori! Resisti! Raggiungiamo quella stazione medica! Alla tua sinistra! Dobbiamo metterci al riparo! Troppi! Via libera! Andiamo! Via libera un cazzo! Sto per dentro, troppo santo! Devi resistere! Tieni giù la testa! Sei ammazzati! Non finiscono mai! Attenzione! E' a terra! Andiamo! Muoviamoci! Ti prendo io! Cazzo! Possiamo scendere qui! Ti prendo io! Stai giù! Cazzo, perdo sangue! Tu continua a premere! Ancora poco! Quassù! Presto! Presto! Ok, tieni duro! Medico! Mi serve morfina! Devi resistere! A Parigi delle ragazze ci aspettano! Davvero? Contaci! Mi fai... Mi fai vedere di nuovo la tua ragazza! Dici sul serio! Pazienza! Non vedo un cazzo! Devo... Devo solo riposare un po'! No, no, no! Devi restare sveglio! Ehi! Daniels! Sono qui! Aiutami! Qualcuno chiami subito un medico! Ci penso io! Via! Lo curerà lui! Ho bisogno di te, Daniels! Ascoltate! C'è un cannone GPF alla fattoria lungo la strada! Sta martellando la spiaggia! Sbrighiamoci! Torneremo a prenderti! Controlla munizioni e granate! Sentito? Tutti in strada! Subito! Arrivo! Mi servono altri colpi! Tieni, soldato! Il cannone è lungo la strada! Pronti a far fuoco appena arriviamo alla fattoria! Svelti! O alla spiaggia resterà solo sabbia! Mitragliatrice del venile! Ho riparo! Suoco sulla mitragliatrice! Pronti a far fuoco appena arriviamo alla fattoria! Mitragliatrice! Svelti! O alla spiaggia resterà solo sabbia! Mitragliatrice del venile! A riparo! Fuoco! Pronti a far fuoco appena arriviamo alla fattoria! Svelti! Svelti! O alla spiaggia resterà solo sabbia! Mitragliatrice del venile! Pronti a far fuoco appena arriviamo alla fattoria! Svelti! Svelti! O alla spiaggia resterà solo sabbia! Mitragliatrice nel venile! A riparo! Fuoco sulla mitragliatrice! ихuocchi del venile! Temici nel campo! Crucchi in arrivo! Non devono riprendersi il cannone! Ecco che arrivano! Fuoco! Voglio qualcuno alla vitragliatrice! Avanzano verso il muro! Vengono da questa parte! Crucchi in arrivo! Non devono riprendersi il cannone! In posizione! Non deve passare nessuno! Sparano! Ecco che arrivano! Fuoco! Voglio qualcuno alla mitragliatrice! Prendite le munizioni! Avanzano verso il muro! Prendite le munizioni! 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 Vengono da questa parte! Arrivano i nostri! Guardate come scappano! Sistematico! Ok ragazzi, siamo portati per me! Libero! Distrugge il cannone! Ricevuto! Prendi delle munizioni, Daniels! Daniels, stermite! Fuoco alle bomberi! Ottimo lavoro, Daniels! Soldati, raggiungetemi al punto di incontro! Andiamo! Pearson! Rapporto sulle perdite! È stata una strage! Ma la spiaggia è nostra! L'abbiamo presa a caro prezzo! Daniels! Pensavo di averle viste tutte! Si riprenderà! Sì! L'hanno rattoppato per bene! Dovevo starmene sulla barca! Oh, adesso ce lo dice! Ehi! Quello che hai fatto... sono in debito! Io dico che siamo pari! Andremo fino in fondo! Fino alla fine! Fino alla fine! La spiaggia è nostra! Ci accamperemo alla seconda fila di arbusti dopo il crinale! Benvenuto nella prima fanteria! Sei lontano dal Texas, campagnolo! Non ci si prepara a questo! Ma tu hai sangue freddo! Signore! Io... Te la caverai! Grazie! Signor sì! Certamente! Non so chi ha pensato di riconquistare l'Europa in questo modo. Una cosa è certa, però. Oggi non era sulla spiaggia con noi.